10 equipaggi misti da tutto il mondo si sfidano in barca a vela è il marina militare nastro rosa tour veloce un percorso non stop in coppia con un record di percorrenza 1492 miglia nautiche la regata più lunga del mediterraneo si parte da venezia e si arriverà a genova dopo dieci giorni di navigazione continua si tratta di una regata particolarmente dura perché siamo a novembre quindi le giornate si accorciano c'è una larga parte della navigazione che si fa nelle ore notturne quindi al buio sicuramente fa freddo molte perturbazioni e la circonnavigazione dell'italia presenta molte difficoltà tecniche quindi una regata che non fa dormire gli equipaggi perché ad ogni punta ad ogni isola c'è un'opportunità per guadagnare posizione organizzato da difesa servizi e ssi sports in collaborazione con la marina militare e l'enit questo giro d'italia a vela è anche un'occasione per valorizzare un patrimonio marittimo di 8 mila chilometri di coste nasce per le attività di valorizzazione che attua difesa servizi quale società in house del ministero della difesa per valorizzare il patrimonio della difesa in questo caso il patrimonio immobiliare in particolare i fari questi gioielli della marina militare che vengono valorizzati attraverso le rotte e i percorsi delle barche Grazie 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 Grazie